A me questa Atalanta nuova piace, piace tanto e forse vi dirò anche più della prima Atalanta del Gasp, quindi 2016 fino all'anno scorso, perché questa Atalanta qua attuale ha una cosa fondamentale che quell'altra non sempre aveva, la maturità. Questa qua è una squadra matura che anche se non domina vince e fateci caso, fateci caso, le squadre più immature anche giocando bene, o meglio scusate mi correggo, le squadre immature se giocano bene vincono e comunque non c'è partita, ma se poco poco soffrono non vincono. Vi ricorda qualcosa? Quel Napoli di Sarri che era una schiaccia sassi se imbroccava bene la partita, ma se poco poco non riusciva a dominare incappava in pari sconfitte evitabili. Ecco, questa Atalanta anche soffrendo, anche nei momenti complicati, riesce sempre alla fine a vincere e oggi vince nonostante il Sassuolo abbia fatto veramente una grande partita. Ma prima di parlarne iscrivetevi, like e commento qui sotto scrivendo anche la vostra opinione sul Sassuolo e sulla Dea e poi scaricate gratuitamente anche OneFootball che vi tiene aggiornati su ogni cosa che è calcio, dalle statistiche alle news di mercato, alle news più generali, agli approfondimenti su questa o quell'altra squadra, il tutto senza spendere neanche un centesimo. Vi ripeto, link in descrizione. Allora, l'Atalanta vince ma complimenti oggi vivissimi a un Sassuolo che ha fatto un'ottima gara, che ha giocato bene con grande intensità e comunque Sassuolo che magari qualcosina in più secondo me la meritava. Però è anche qua che si vede quanto una squadra è matura perché se andiamo a guardare nel dettaglio, il Sassuolo gioca primo tempo equilibrato in cui però forse l'Atalanta fa qualcosina in più. Ma è il Sassuolo che va avanti con un gol che è un capolavoro, ma subito risposta della Dea che pareggia. Secondo tempo, quanto? 20 secondi, 2-1. L'Atalanta l'ha ribaltata con la forza, con la voglia di andare a vincere questa partita e forse al Sassuolo è mancata quella voglia, quella verve, quella spinta psicologica che invece ha trascinato l'Atalanta verso i tre punti. E adesso comunque la Dea zitta zitta è prima in classifica, certo ovviamente ha una gara in più rispetto al Napoli e anche alle altre, però intanto è prima in classifica. Quindi comunque sicuramente questa è la testimonianza di un percorso importante che si sta facendo. È un'Atalanta che anche nelle difficoltà non si disunisce perché comunque tu prendi quel gol a fine primo tempo e il contraccolpo psicologico poteva anche starci, invece non c'è stato per niente, anzi chi ha subito il contraccolpo è stato il Sassuolo sul gol del pari perché poi il Sassuolo non è più riuscito a riprendersi totalmente, ha un po' accusato quel colpo. Quel gol subito l'hanno accusato infatti anche nella ripresa subito, pronti via il gol preso da Lukman che secondo me sta diventando sempre più protagonista. Dieci partite, già quattro gol, si è inserito alla perfezione e sembra che comunque gli schemi li conosca bene, sembra che sia lì da anni, non sembra un novellino, sembra che comunque sia con Gasperini da anni. E questa secondo me è una grande qualità, il sapersi adattare perfettamente a ogni circostanza. Poi che cos'altro? Vi posso dire che comunque l'Atalanta secondo me lo Scudetto non lotta per lo Scudetto, ovvio che stanno là, stanno primi, quindi ci sta che qualcuno si esalti anche, però lo Scudetto è fuori portata realisticamente parlando. Ma la Champions? Sì, la Champions? Io non pensavo, io, l'Atalanta è stato un errore che ho fatto e l'ho sempre ammesso. Io pensavo dopo la mancata comunque qualificazione in conference, pensavo che ormai il ciclo di Gasperini fosse finito. E diciamo che nei fatti il primo ciclo è finito, ma ne è subito partito. Un altro a ruote è questo. Nuovo ciclo questo, nuovo corso, vi ripeto, mi lascia forse anche quel qualcosina in più rispetto a quell'altro, quello precedente. Perché è vero, come gioco l'Atalanta Prime, l'Atalanta che dominò in Champions, quell'Atalanta che faceva 4-5, anche 7 gol a tutti, mi ricordo, un 7-0 col Toro, è irripetibile come gioco. Ma come atteggiamento, come forza, come voglia, questa Atalanta gli è superiore. E spesso comunque queste cose poi alla fine, se vuoi andare a fare qualcosa di importante, servono. E comunque, ora, l'Atalanta sta facendo benissimo, ma occhio, c'è un piccolo dettaglio. L'Atalanta l'anno scorso è crollata a fine, diciamo, a inizio ritorno. Quindi, con calma, ha fatto un'ottima annata, anche se, vi ripeto, questa Atalanta la vedo più matura. E quindi, nonostante anche l'anno scorso sia partita bene per poi calare in seguito, penso che quest'anno comunque riesca, riuscirà a mantenere la rotta fino a fine stagione. Ora, tocca a voi, mi raccomando, scrivete qui sotto che cosa ne pensate di questa Atalanta che prende gol, ma reagisce e, seppur con qualche sofferenza gestisce, iscrivetevi, che è fondamentale. E poi, e poi lasciate anche un sacco di like. A domani, ciao!